Collegati online Magaze.it Un Camarath ordinato e solido conquista l'intera posta in palio contro la San Cataldese al Valentino Mazzola decide una rete di Gioacchino Priviterra direttamente su calcio di punizione il servizio di San Cataldese Camarath Il Camarath passa 1-0 al Valentino Mazzola di San Cataldo contro una brutta San Cataldese incapace di sfruttare il fattore campo I bianco-azzurri di Renato Maggio portano a casa una vittoria importantissima che dà morale e fiducia a tutto l'ambiente per il proseguo della stagione Per il Camarath tre punti fondamentali per ritornare prepotentemente in zona playoff I Verdi e Maranto invece hanno deluso le aspettative della vigilia hanno creato poco gioco e sono stati puniti nell'unica disattenzione della partita Se la gara però fosse finita 0-0 nessuno avrebbe gridato allo scandalo Insomma il pari sarebbe stato il risultato più giusto La partita, buona affluenza di pubblico sugli spalti La gradinata è occupata dai San Cataldesi I tifosi organizzati sono in curva Ospiti nella tribuna coperta Da Camarath sono arrivati una ventina di tifosi bianco-azzurri I due allenatori sono squalificati e seguono la gara dalle tribune I padroni di casa sono ancora privi dell'attaccante Tabascio infortunato Lirio Torregrossa gioca con il 4-4-2 In porta c'è Amendola ex Nice Acragas Al centro della difesa gli esperti Sardina e Milanesio A sinistra gioca Alessi ex Favara A destra Draga classe 90 In mezzo al campo Maniscalco e Bertuccio Esterni alti due Under Calaio e Cassarino In attacco la coppia Ariel Ogeda e Michele Marino ex Bagheria Il Camarath non può schierare lo bianco in tribuna perché è infortunato Davanti a Vincenzo Pelitteri ci sono i centrali Bonito e Scrudato Poi 5 centrocampisti Nicolas Morreale, Di Leo, Canzoneri, Privitera e Ilario Pelitteri In avanti a destra Giovanni Morreale A sinistra Panepinto con Portella punta centrale Sono 4 gli under scelti da maggio Davvero un bel coraggio Che alla fine verrà premiato con la vittoria Su un campo dove già hanno perso Acragas e Parmonval Il match è diretto da Giuseppe Giglio di Acireale Ottima la sua direzione La gara stenta a decollare, la fase di studio dura un bel po' Le due formazioni si affrontano a viso aperto ma di palle e gol nemmeno l'ombra Si lotta prevalentemente a centrocampo con il Camarath bravo ad imbrigliare la manovra verde amaranto Ci si affida ai calci piazzati ma senza mai impensierire i portieri L'incontro è equilibrato La San Cataldese prova a fare la partita ma il Camarath copre bene gli spazi Non dà tregua all'avversario Ospiti più intraprendenti e pronti a colpire di rimessa Oshiede e Marino sono praticamente annullati da Bonito e Scudato Alla mezz'ora si fa male Portella, distorsione alla caviglia Al suo posto entra Azzarello La San Cataldese nel finale di primo tempo ha un sussulto d'orgoglio e mette paura al Camarath Si va al riposo sul nulla di fatto, 1-0-0 che rispecchia le difficoltà che hanno le squadre nel superarsi a vicenda In tribuna la gente si annoia e spera in una ripresa totalmente diversa Parte bene la San Cataldese e al secondo minuto sfiora il vantaggio con Draga ma Pelletteri salva la propria porta Il Camarath risponde al quarto con Morreale ma il suo tiro termina a lato Altra chance per i padroni di casa, al sesto Sardina non inquadra la porta da posizione favorevole I Verdi e Maranto avanzano il baricentro alla ricerca del gol ma il Camarath non sta a guardare E al sedicesimo passa in vantaggio Pulizione dalla sinistra di Pelletera e a Mendola si lascia sfuggire il pallone Rivediamo la rete del capitano del Camarath Il vantaggio galvanizza i bianco-azzurri e demoralizza i padroni di casa L'Iriottore Grossa opera alcuni cambi per tentare di recuperare la partita Il Camarath però è ben disposto in campo ed in difesa non sbaglia un intervento La squadra di Renato Maggio tiene sempre alta la concentrazione Lotta su ogni pallone e la San Cataldese non riesce a trovare lo spunto vincente per battere a rete In contropiede poi il Camarath potrebbe segnare il secondo gol ma la mira è imprecisa Parepinto chiede un rigore ma prende il giallo per simulazione Nel finale la San Cataldese rimane in 10 Sardina entra a piedi uniti su Marco di Piazza e si becca il secondo giallo Doccia anticipata per lo stopper di Torregrossa L'assedio finale dei Verde Maranto non cambia la storia della partita A tempo scaduto Milanesio vorrebbe un rigore che non c'è Poi il fischio di Giglio che assegna i tre punti al Camarath E manda in crisi la San Cataldese contestata dal proprio pubblico Complimenti alla Camarath di Renato Maggio Adesso ascoltiamo le interviste del dopogara San Cataldese Camarath Mister tre punti importanti conquistati qui a San Cataldo Tra l'altro un campo dove sono cadute le big Ma io lo sapevo era una partita difficilissima E ho cercato di prepararla nei migliori dei modi Facendo un accorgimento in difesa e a centrocampo A me interessava oggi non perdere Sono obiettivo e sincero Io per un pareggio ero contentissimo I ragazzi mi hanno fatto questo regalo e l'accetto ben volentieri Però tutto sommato la squadra della San Cataldese è una squadra ben messa in campo Una squadra forte E l'ha dimostrato in passato Vedi la Parmonval, l'Agracass e tante altre squadre Per il proseguo del campionato? Guarda io ho sempre detto che la mia squadretta è giovane Vedi caso oggi abbiamo giocato con quattro juniors Ho detto sin dall'inizio che il nostro obiettivo era fare playoff Non mi tira indietro ora che ho 12 punti e non mi tirava indietro quando ne avevo due Il nostro obiettivo è quello di fare bene, valorizzare i giovani e arrivare più in alto possibile Anche oggi un episodio ha cambiato il risultato Penso che fino a quel momento la partita l'avevamo fatto noi Si vede che il Camerat sta passando un periodo non bello Perché io conosco la squadra di Renato Gioca molto meglio, molto di più oggi Prima del gol non aveva fatto niente che ci poteva mettere in pericolo Poi un episodio, un gol ha cambiato la partita Noi ci siamo poi buttati in avanti e anche un po' confuzionari Per quella voglia di riprendere il risultato E alla fine è finita in questo modo Poi chi segna ha ragione Anche questa volta il Camerat ha avuto ragione Una San Cataldese che forse pecca in avanti San Cataldese abbiamo gli attaccanti che non sono le prime punte Ci manca Tabasso che è una prima punta e ci fa punti di riferimento Sia Oceda che Michele Marino sono delle seconde punte Che non cercano mai la profondità E allora abbiamo sempre difficoltà da far allungare la squadra avversaria Oggi anche se abbiamo avuto due bellissime palle gol Non siamo riusciti a metterle dentro E in questo momento Oceda non ci sta dando quello che noi volevamo Spero che più presto si riprenda Tabasso E che riuscimo a fare questi punti per arrivare il prima possibile alla salvezza Una bella vittoria contro una squadra secondo me molto buona Un campo difficile, non sarà facile per nessuno venire a vincere qua E quindi sono tre punti davvero pesanti Una partita che secondo me si poteva sbloccare così come è stato con un episodio Non ci sono stati i due portieri che non hanno corso rischi particolari L'episodio è stato dalla nostra parte Stiamo contenti per questo La Sangraldese pare regga bene per lo meno quando prende il primo gol Sì e purtroppo abbiamo questo Appena prendiamo un gol I giocatori vanno un po' in tensione nervosa E purtroppo poi saltano tutti gli equilibri Poi abbiamo una sfortuna immensa Cioè un tiro, un gol Neanche un tiro direi Purtroppo quest'anno sembra proprio una sfortuna che abbiamo Che sta portiamo dietro Noi giochiamo Certo non benissimo però gli altri fanno un tiro e un gol Da un punto di vista societario ci sono delle intenzioni anche di mercato per rinforzare in avanti questa squadra Ma sicuramente alla luce di quello che succede bisogna prendere una decisione tutti insieme E vedere un attimino che cosa si deve fare Perché naturalmente così stando le cose dobbiamo cercare di dare un segnale ai giocatori Sceglieremo in questi giorni che cosa fare a novembre Ho visto la squadra in settimana che si è allenata abbastanza bene Una squadra che ha voluto fare punta così da costo E credo che abbiamo meritato di vincere E adesso la classifica del campionato di eccellenza dopo otto giornate In testa una sola formazione il Gattopardo con 18 punti Poi Favara e Folgore 15 Camarat Parmonval 12 punti Marsala ASD, Marsala 1912 e Acragas 11 punti Rivera Marmi 10, Villabate 9, San Cataldese 8 punti Sporting Arenella 6 punti, Enna 5, Bagheria 4 Ultima con 3 punti la squadra del Campobello di Licata Il prossimo turno è in programma il primo di novembre La nona giornata, ora è 14.30 Queste le gare in programma Enna San Cataldese Favara Folgore si giocherà allo stadio Eseneto di Agrigento Poi Gattopardo Acragas Questa gara si potrebbe giocare allo stadio Dino Liotta di Licata Poi Camarat, Campobello di Licata Parmonval, Villabate, Rivera Marmi Marsala ASD, Marsala 1912 Sporting Arenella riposa il Bagheria di Pino Labianca